Andrea Accevatori Vincenzo! 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 Vincen La VBD Production presenta il main event della serata Un incontro sulla distanza di 6 round valevole per la categoria Pesi Super 20 Al punto dell'incontro è il signor Roberto Di Mario da Roma All'angolo blu al peso di 73 kg in pantaloncini argento e nevi E con un record a professionista formato da 11 incontri disputati 11 vittorie per lui, 3 delle quali per K.O. Già campione mondiale junior IBF dei Pesi Super Belter Alessandro e Raffaele Filippo per la VBD Production Da Roma, Andrea Lo Scuolo, Angelo Core Contro di lui, Aleno Rosso, all'inizio di 71 e 27 E' un'altra partenza da Rossi E' un'altra partenza da ragazzinista Per amato da 8 incontri disputati 4 vittorie per lui Già campione d'Italia Neopro 2015 della categoria Pesi in Medi Al suo angolo Simone D'Alessandri con Stefano Miscali e Catman Federico Canizzone Per la BBD Production D'Alessandri con Vincenzo D'Alessandri con Vincenzo Vincenzo, 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 Vincenzo D'Alessandri con Vincenzo D'Alessandri con Vincenzo D'Alessandri con Vincenzo D'Alessandri! Grazie a tutti! 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 Vincenzo, 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 Vincenzo Vincenzo, 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 Vincen Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.